Salve a tutti i giocatori, benvenuti in un nostro nuovo video Non abbiamo infatti in tempo stamattina a fare il recap per quanto riguarda Infinite Forbidden Che vi invito a recuperare assolutamente in modo da avere proprio le idee chiare sul set Che vengono confermate e io gradisco perché ci abbiamo azzeccato ragazzi Ci abbiamo azzeccato, almeno una è stata azzeccata Sono state confermate delle carte, delle rarità e delle import sempre inerenti a Infinite Prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di sempre aggiornati, ricordo che l'iscrizione ci ha aiuto tantissimo E io vi ringrazio come sempre, link fantasia storia in descrizione Per preordinare il set che stiamo consigliando abbastanza Anche perché comunque ha money card e ha anche carte forti Quindi diciamo, insomma, è un bel set È un bel set, comunque come al solito link affiliato quando c'è sconto Passando tramite il link aiuta del canale Detto ciò, allora abbiamo le prime carte confermate Ovviamente il Fismith and Graver già l'avevamo visto Però, allora, Dragon of Pride and Soul Quarter, l'unica quarter Poi abbiamo Sengen Wicks from a Millennium, ultra raro Dark Magician of Black Magic, ultra raro E il Tenpai Dragon Gengroku, ultra raro Ok, quindi abbiamo tre ultra confermate E ovviamente ci sono anche i nomi Per quanto riguarda il TCG Poi abbiamo il Molchmarmi Purulia Secret, Unstappable Exodia Ultra L'avevamo visto E abbiamo tre carte che possono essere tra il Super e il Common Abbiamo il Gimic Puppet, Fantasy X e Machine X Che secondo me poi sono tutte e tre super, eh Spellcar, Monster Reborn Che effettivamente potrebbe essere una carta generica da utilizzare in qualche mazzo Si gioca, l'ho visto giocare mi pare anche in Gimic Puppet Casualmente l'hanno messo, l'hanno inserito Quindi, ok Mi dispiace solo per quest'art Rimane bella, eh, l'artwork del mostro risuscitato Però con l'anche Egizia è tutta altra cosa E poi, Moon of the Closed Heaven Tra Common e Super Quindi, tecnicamente, non dovrebbe costare molto Però, diciamo che se viene giocata tanto, in tantissimi mazzi E è super Potrebbe arrivare a una decina d'euro Forse Forse Forse, eh Però, diciamo Prendiamola per le pinze Però potrebbe essere comunque una carta dal medio e alto costo Quindi, Moon of the Closed Heaven Però, motivo in più per prenderlo Perché, effettivamente, se sono reperibili Comunque è una carta che viene giocata abbastanza Quindi, un'ottima carta Soprattutto poi se uno gioca anche l'altra God Adesso, Finsmith Se hai Finsmith, sei a posto, insomma Vabbè, se hai Finsmith, te la prendi anche singola Non c'hai bisogno Poi, abbiamo un'altra nuova Filz Filz importanti Perché questi sono le rarità delle carte fake Dei mercati, dei tempi Hanno deciso, dopo le Star Foil Di mettere anche questa qui Giustamente Allora, una carta Ignorance Dragonite Che molto probabilmente Fa parte per l'archetipo Primordial Che si basa sulle carte comuni Oppure, no, proprio non è di Rage of the Abyss È del Tournament Pack Ok Eh sì Tournament Pack Che è collegata comunque a quel mazzo Perché, insomma Giochi le carte normali Ecco, quel mazzo Se effettivamente Costerà poco qui Io lo vedo molto bene Con Fanta Spiral Secondo me C'ha della robina molto interessante Se uno vuole fare una versione Molto economica del mazzo E se il mazzo costa poco Ve devo dire che potrebbe picchiare Come non si sa che cosa Proprio Diventa proprio figlio di sua mamma Il mazzo Bene, bene, bene Molto contento Abbiamo azzeccato Spero che azzeccheremo Anche per quanto riguarda L'altra carta di Fire King Speriamo Speriamo Comunque Detto questo ragazzi Fatemi sapere cosa pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video Che sarà molto Molto Ravvicinato Perché effettivamente Dopo ci sarà un video di Magic Perché abbiamo fatto anche Le anteprime Le deck profile Degli starter Facciamo tutto insieme Prima che esca Ovviamente Perché se no Non avrebbe senso Va bene Ripeto Noi ci vediamo In un prossimo video E un saluto a tutti Ciao